Bentornati, questo video è rivolto a tutti coloro che decidono di acquistare una vettura e vogliono sapere prima di pagare la macchina se la vettura che stanno comprando, ovviamente vettura sia nuova che usata, ha preso la grandine, quindi se la vettura ha segni anche lievi di grandinata. Mi è capitato che un cliente mi ha portato a riparare una macchina per dei bollini e ho dovuto comunicare al cliente che la macchina era già stata grandinata, riparata e riverniciata, aveva subito danni da grandine, era stata portata più o meno in piano, si vedeva sotto le lampade ed era stata riverniciata. Al momento della riparazione gli ho detto va bene tu mi chiedi di ripararti, questi bollini che ovviamente sono visibili, ma dei bollini vecchi cosa facciamo? Portiamo la vettura anche se è riverniciata in piano o la riparazione vecchia te la lascio così com'è e ti riparo solo i bolli nuovi che mi chiedi? E il cliente non sapeva, mi diceva ma io la macchina non vorrei riparata completamente, devo rivenderla, non vorrei che l'acquirente vedesse che è danneggiata e mi chiedesse uno sconto. A quel punto io ho detto va bene i bollini nuovi teliriparo o quelli vecchi, segui la lavorazione mentre l'eseguo e dimmi se ti va bene una riparazione di questo tipo. Ovviamente più tempo impiego nella riparazione meglio viene la macchia. I bolli da grandine il più delle volte se non sono bolli solcati, se non hanno spaccato la vernice, si riparano, il problema qual è? Il tempo, cioè a volte conviene riparare a freddo la vettura in un giorno e mezzo, due giorni di lavoro, anche bolli medie si riparano, in altri casi su bolli brutti si ripara la vettura portandola in piano il più possibile, si dà al fondo e si rivernicia, quindi bisogna vedere anche una convenienza in termini di tempistica di lavorazione. In quel caso abbiamo concordato col cliente la riparazione anche della precedente lavorazione e faccio questo video rivolgendomi ai commercianti che stanno comprando una vettura da un altro commerciato, da un privato e ai privati che stanno ritirando una vettura. Se vogliono sapere se la vettura che stanno comprando ha subito una grandinata ed è stata riparata correttamente potete contattarmi, vi dico se ci sono dei bolli ancora visibili, se la macchina secondo me richiede di riprendere dei bolli oppure se la macchina è sana e non ha mai subito grandinate. Questo parere è un parere che qualsiasi leva bolli vi può dare, io lavoro a Torino, però è giusto anche a mio avviso quando si acquista una macchina sapere le reali condizioni di meccanica, questo non è mio compito, di carrozzeria e di grandine che eventualmente può svalutare quello che è il prezzo del veicolo. In ogni caso conviene sapere, per il mio modo di vedere le cose, esattamente cosa si sta acquistando. Quindi se volete sapere, magari state comprando una macchina da 30.000 euro, se la macchina che state comprando ha subito la grandine o meno, contattatemi. Prima di spendere vi dico se la macchina è paria è paria al nuovo, è come uscita dalla fabbrica o se richiede qualche riparazione. Poi se le riparazioni vorrete farmene eseguire, in qualche modo concorderemo quando ho tempo, a partire da ottobre, di eseguire le riparazioni. Poi se le assicurazioni vogliono concordare, eventualmente anche prima di assicurare una macchina contro la grandine, di farmi visionare la vettura per vedere se prima del contratto assicurativo la vettura ha già dei danni presenti o meno, anche in quel caso potete contattarmi, vediamo di trovare una soluzione. Se video di questo tipo vi interessano fatemelo sapere, se avete domande scriveteli in descrizione, ci vediamo nei prossimi video.